salve ragazzi buon pomeriggio a tutti sono qui in questo video per parlarvi di the last of us parte 2 remastered perché sì alla fine ho acquistato l'aggiornamento a playstation 5 a costo di 10 euro quindi pochissimo allora vi devo dare un consiglio molto particolare ok allora se volete questo questo aggiornamento in più di questo grounded per farvi chiamare così perché è stato chiamato così mi raccomando comprate quello da playstation 4 e poi fate l'aggiornamento non comprate direttamente quella da playstation 5 perché spendete 50 euro inutili perché dico inutili invece comprate il gioco che costa meno tipo una ventina d'euro e poi fate l'aggiornamento risparmiare 20 euro e poi l'aggiornamento costa 10 euro perché vi dico questo perché è bello mi è piaciuto la modalità ritorno è bello mi sono trovato bene con alcuni personaggi con alcune modalità modalità che sono veramente spettacolari solo che purtroppo quello che non mi è piaciuto sono i livelli perduti perché ne sono tre i livelli degli sviluppatori che non hanno messo nel gioco ne sono tre mi aspettavo un po di più però diciamo che va bene poi hanno messo le skin tutte le cose eccetera e poi c'è questo salto di qualità che va bene non è visto grande differenza prova bene non è una recensione solo per dirvi che se volete farlo comprate il gioco versione playstation 4 e poi fate l'aggiornamento a playstation 5 perché se no è veramente una cosa spendere dei soldi inutili ecco grazie a tutti Grazie a tutti.